Rendere più agevole la vita delle imprese e delle marche attraverso un suo app Sportello Unico Attività Produttive a livello regionale, dal più piccolo comune alla grande città. È l'esito dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Anci. Al centro la formazione e la promozione degli sportelli unici, il potenziamento e la digitalizzazione, un'occasione per sburocratizzare e velocizzare. Questo protocollo offre maggiore semplificazione alle imprese che ci chiedono di sburocratizzare la pubblica amministrazione. Questo swap offre intanto la possibilità di aggiornare immediatamente il fascicolo elettronico di imprese e quindi significa che da domani i comuni che lo utilizzano potrebbero evitare di chiedere la maggior parte delle autocertificazioni che vengono richieste oggi, che poi sono quasi sempre le stesse, ai comuni piuttosto che anche ai cittadini. Con il swap regionale abbiamo un unico username, un'unica password e quindi anche maggiore semplificazione per i consulenti che lo utilizzano e abbiamo anche la certezza che quando la pratica viene evasa è sostanzialmente corretta perché i dati vengono comunque automaticamente prelevati dal software e se la pratica non è corretta poi non va avanti. Far sì che tutti i comuni delle Marche abbiano una piattaforma unica in modo che da nord a sud o da un lato dell'entroterra o sul litorale del mare le imprese possono avere gli stessi sistemi su cui poi dopo vengono fatte le certificazioni o le documentazioni. Quindi si va verso un processo che tende ad avere un controllo molto razionale e molto strutturato degli adempimenti e questa è una condizione credo molto positiva da un punto di vista di sviluppo delle imprese. Grazie